Sono 12 pazienti positivi al coronavirus si ricoverati oggi in Sicilia, 19.500 circa gli attuali positivi, più di 600 in provincia di Enna. Tamponi antigenici rapidi per le scuole, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASPE di Enna comunica che è già esaurita la disponibilità per le prenotazioni. Lo screening che si realizzerà il 7 e l'8 novembre sarà riproposto successivamente e ne sarà data adeguata comunicazione. L'azienda sanitaria provinciale di Enna ha assunto 14 giovani medici che hanno dato la disponibilità a prestare la propria opera nelle aree ospedaliere dedicate ai pazienti Covid. I giovani professionisti prenderanno servizio già lunedì all'ospedale Umberto I. Al pieno quinquennale di oltre 19 milioni di euro da destinare alle scuole e alle strade si aggiunge un'ulteriore programmazione triennale con finanziamenti statali per sistemare la rete viaria provinciale. Questo nuovo pacchetto di interventi prevede un investimento di circa 6 milioni di euro. A darne comunicazione il libero consorzio comunale di Enna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.